Quelle del 15 marzo in Olanda saranno le prime elezioni politiche dopo il voto inglese sulla Brexit e l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. In testa ai sondaggi, anche se di pochissimo, il partito liberale del premier uscente Mark Rutte. Adesso siamo primi nei sondaggi, ma il partito della libertà di Gert Wilders ci tallona. L'enorme rischio che possa rimontare e vincere è ancora concreto e sarebbe una pessima notizia. Per questo mi batterò con tutte le forze, perché il mio partito arrivi primo. Perde il primo posto l'antieuropeista islamofobo Partito della Libertà, guidato da Gert Wilders, condannato nel 2016 per incitamento all'odio razziale. Mr. Rutte ha ragione. C'è la concreta possibilità che il Partito della Libertà risulti il primo partito in Olanda dopo le elezioni. Col proporzionale puro olandese è difficile immaginare una coalizione di governo che comprenda il partito di Wilders. Diverso discorso per il moderato Partito Democratici 66 di Alexander Petscholt, europeista convinto e in crescita nei consensi.